Spesso riportiamo delle brutte notizie. Oggi invece abbiamo una bella notizia che parte però da una disavventura. Protagonista è stato Giuseppe Franceschini, un fanese che da giovane ha abbandonato la nostra città per cercare fortuna all'estero e è andato in Svizzera e poi in Francia. Ebbene, lo abbiamo qui. Signor Franceschini ha passato una brutta avventura di ritorno a Fano. Lui ritorna ogni tanto a Fano perché la sua città gli è rimasta nel cuore. Signor Franceschini, ci racconti che cosa le è capitato l'altro giorno? L'altro giorno sono venuto a pranzo qui alla pizzeria Bella Napoli e poi ho pranzato bene, giusto, mi è piaciuto. Ho pagato, volevo pagare con un biglietto da 100 euro, non aveva moneta e ho tirato fuori la carta Visa. Poi ho rimesso tutto a posto, ho pagato e sono partito. Poi sono andato in albergo all'Hotel Angela, verso le tre e mezzo, le quattro del pomeriggio. Sono ripartito, ho cercato i miei documenti, non ce li avevo. Non c'era più il portafoglio, non c'era niente. Sono venuto su e... Terrore, attimi di terrore. Panico perché devo tornare a casa, le carte di credito per pagare l'autostrada. Era un po' un po'... mi ha preso un po' di panico. E quindi una volta è tornato qui, ha trovato una bella sorpresa, la cameria Ada. A scasa. Ebbene, lei l'ha trovato fortunatamente. Sì, no, appena sono uscita dalla porta un attimo ho visto sto portafoglio e poi ovviamente ti viene spontaneo aprirlo il portafoglio. Ho aperto e ho visto, ho riconosciuto la carta del Signore, sì che l'ho preso e com'era, insomma l'ho messo dietro la cassa per poi onestamente restituirlo ai vigili. Appena avrei finito sarei andata ai vigili a portarlo anche perché insomma era abbastanza importante e impegnativo. Invece prima è arrivato lui. Esatto, infatti non ho esitato un attimo, le ho detto venga, venga, guardi è qua. Non mi ha fatto neanche la domanda se ci fosse stato o meno il portafoglio. È stato carinissimo perché mi ha regalato una bella pianta e oltre a quello mi ha lasciato anche 100 euro, che non avrei voluto tra l'altro, ma è stato veramente carinissimo. Quindi un grande sospiro di sollievo, signor Franceschini. Quindi ritorna in Francia con un bel ricordo di Fano, insomma. Certo, sì, sì.